L'incontro con i giovani venuti da tutto il mondo a Cracovia per la giornata mondiale della gioventù, quello con il popolo polacco e la sua fede che custodisce la speranza attraverso le prove e la preghiera silenziosa per gli orrori della guerra al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Sono queste le tappe principali del viaggio apostolico in Polonia appena concluso, su cui Papa Francesco ha voluto riflettere con i fedeli all'udienza generale tenuta nell'aula Paolo VI in Vaticano. La GMG innanzitutto è stata un segno profetico per la Polonia e per il mondo, ha detto Papa Francesco, un'occasione nella quale i giovani hanno dato un segno di speranza e di fraternità in un mondo in guerra, dove le bandiere di nazioni in conflitto tra loro hanno sventolato insieme purificandosi assieme ai giovani. Io non so come fanno, parlano lingue diverse ma riescono a capirsi. E perché? Perché hanno questa volontà di andare insieme, di fare ponti, di fraternità. Sono venuti anche con le loro ferite, con i loro interrogativi, ma soprattutto con la gioia di incontrarsi. E ancora una volta hanno formato un mosaico di fraternità. Si può parlare di un mosaico di fraternità. Il Pontefice ha quindi ricordato nella preghiera Susanna, la ragazza di Roma morta di meningite a Vienna sulla via del ritorno della GMG. Pensando ancora alla visita ad Auschwitz-Birkenau, Papa Francesco ha rinnovato ai fedeli l'invito a pregare per la pace, per far cessare i conflitti in un mondo malato di crudeltà, di dolore, di guerra, di odio e di tristezza.